Buongiorno e ben ritrovati all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Subito un aggiornamento sulla diffusione del Covid-19 in provincia di Varese. Se sul fronte dei casi positivi si assiste a un piccolo miglioramento con i 137 registrati ieri, per quanto riguarda i decessi invece le cifre all'apparenza sono allarmanti. Sempre nella giornata di ieri nel solo territorio dei laghi sono stati ben 27 i morti rispetto ai soli tre di lunedì. Il dato però è l'ennesima conferma di un sistema di analisi dell'evoluzione dell'epidemia che fa i conti con i rallentamenti e quindi le anomalie di un ponte festivo. Per quanto riguarda le città più grandi nel capoluogo si sono contati 11 nuovi contagi, a Busto Arsizio 7 e a Gallarate 6. Rimanendo in tema di pandemia bisogna rimarcare che purtroppo le norme di sicurezza non sono sempre rispettate, in particolare sui treni. Oggi alla ripresa del lavoro dopo i giorni di festa il Varese Treviglio delle 16 e 30 è stato fermato a Milano Certosa perché troppo affollato, un provvedimento necessario nell'attesa dell'arrivo delle forze di polizia per convincere i passeggeri in eccesso, che non volevano spostarsi, a salire su altri convogli. Ciò ha provocato ritardi su tutta la tratta. Ancora treni. Da domani è previsto il blocco dei collegamenti su rotaia con il canton Ticino. Questo è stabilito dal nuovo decreto del governo Conte. Da parte svizzera c'è però irritazione per questa decisione obbligatoria che è causata dal DPCM italiano. Si spera quindi in una deroga. La conseguenza immediata è che migliaia di frontalieri del Varesotto e del Verbano Cusi-Ossola si riverseranno sulle strade per raggiungere il loro posto di lavoro oltre confine. Nel frattempo c'è un tentativo di mediazione per armonizzare le misure anti-Covid-19 tra i due paesi da parte del senatore Varesino Alessandro Alfieri. Cambiamo pagina. Nel capoluogo c'è una novità in cui la natura è protagonista. È stato creato un frutteto comunale. Ce ne parla Pasquale Martinoli in questo servizio. Nell'inverno che ha già visto scendere la prima nevicata è germogliato un frutteto a Varese. Anzi sarà il primo frutteto comunale della città. Si trova qui alle spalle di San Carlo nell'area di Santa Maria Maddalena confinante con gli orti urbani. Su un'area prima meno utilizzata all'ingresso come vedete del plis cittura verde sud di Varese sono stati piantati 60 alberi da frutto. Il progetto scaturisce da un intervento di compensazione di un cantiere privato. L'assessorato al verde ha chiesto come onere la realizzazione appunto del frutteto. Ci vorranno almeno due anni per vedere i primi frutti ma i varesini poi potranno andare a raccogliere pere, ciliegie e pesche. Come detto quest'area è accanto agli orti urbani che quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria sono stati pochi curati. Le 60 piantine che vedete spicchiano in questo momento tra la coltre bianca della prima neve. Saranno un giardino dell'abbonanza. Infine la cronaca. L'altra sera a Bustor Sizio in via dell'acqua un 26enne di origine sudamericana e probabilmente sotto l'effetto di alcol ha danneggiato ben otto macchine parcheggiate. A tutte erano stati roti gli specchietti retrovisori. Giunta sul posto una volante della polizia l'uomo è stato poco collaborativo con gli agenti che tentavano di calmarlo. Tanto che l'agitazione è proseguita anche al commissariato dove il 26enne ha rotto una tapparella. Denunciato dovrà rispondere di danneggiamenti. Per ora è tutto. Una rivederci all'edizione serale delle 19 del notiziario di prealpina.it. Un cordiale saluto e l'augurio di un buon pomeriggio.